Una pista ciclopedonale lungo i paesi toccati dal lancinale si concretizza il progetto che lega i territori. Adottare una strategia condivisa per la valorizzazione e la fruizione del territorio mettendoli in evidenza le particolarità. Partendo da questo principio è nato il progetto di creare una pista ciclopedonale in grado di legare le realtà che condividono storia e aspetti paesaggistici. Ad illustrare le finalità è stato il commissario del Parco delle Serre Giovanni Aramini che ha spiegato come il percorso unisce Serra San Bruno, Brognaturo, Spadola, Simbario e Cardinale. Tutto è partito affermato da un'idea della consigliera Grazia Bertucci. Noi ci siamo attivati per individuare le risorse, inizialmente 200 mila euro ai quali si sono aggiunti ulteriori 750 mila euro e adesso può essere espletata la gara. Chiuderemo il primo lotto entro il mese di agosto ed avvieremo rapidamente il secondo. Sì, è partita da me come consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, mi sono occupata di questa cosa. Ho avuto il sostegno dei comuni del circondario, quindi di Spadola, Brognaturo e Serra San Bruno e poi del Parco che si è occupato del finanziamento del progetto. Questo percorso ciclopedonale si inserisce in un contesto di grande dinamismo per la mobilità sostenibile e pone il fiume Ancinale come elemento accomunante. I primi 4-5 chilometri sono paralleli alla ciclovia dei parchi che segue la viabilità ordinaria e diventano pista ad uso esclusivo della bicicletta e dei pedoni. Di fiducia nel futuro e necessità di incrementare l'unità per generare sviluppo turistico ed economico. Hanno parlato rispettivamente la consigliera Bertucci e la presidente della comunità del Parco Melania Carvelli, mentre il direttore del Parco Francesco Pititto si è soffermato sui dettagli tecnici. In particolare ha precisato che è anche prevista la messa in sicurezza dell'alveo dell'Ancinale con la realizzazione di gabbionate. Questo è un progetto che si inserisce in un contesto molto più ambizioso che quello che sta puntando a rilanciare il turismo sostenibile, la mobilità lenta e il turismo naturalistico all'interno, nell'entroterra della Calabria, a partire dalle aree protette. Qui siamo nel cuore delle aree protette calabrese, nel Parco regionale delle Serre. Ecco, in questo contesto generale di rilancio della fruizione turistica delle aree interne, si inserisce questo percorso che rappresenta un attrattore turistico per questo comprensorio, un percorso che va, punta ad unire, a mettere insieme lungo quello che è il filo conduttore naturale, che è il fiume, che è l'Ancinale, mettere insieme Serra San Bruno con i tre paesi Simbario, Spadola e Brognaturo e poi proseguire ancora fino a Cardinale. Quindi cinque paesi che sono storicamente legati da un fiume, perché la storia di questi, anche l'origine di questi paesi non è casuale, è legata al fiume e noi vogliamo ricongiungerli attraverso questo filo conduttore che è il lancinale. Mettiamo al centro del lancinale, di questo territorio mettiamo un lancinale che da sempre è stata la storia, ha disegnato, ha tracciato la storia del territorio. Se noi pensiamo alle attività produttive, all'arte del legno, all'arte di lavorazione del ferro, l'ancinale ha fornito sempre l'energia per fare tutto questo. Quindi se lo sviluppo economico e artigianale di questo territorio è andato in un indirizzo, è andato in quell'indirizzo perché c'era l'energia dell'ancinale. E noi da questa energia vogliamo partire per rilanciare in una maniera nuova il turismo in questo territorio. Cosa porterà, secondo lei, questo progetto al territorio? Questo progetto rappresenta un attrattore ulteriore. Questo territorio è ricco di attrattori, attrattori naturalistici, attrattori storici, attrattori culturali, c'è la Certosa, ci sono già tanti attrattori. Questo è un ulteriore attrattore che renderà interessante questo territorio non soltanto, dico io, per dialogare con la costa ionica e con la costa tirrenica, per il turismo che è presente sulla costa ionica e sulla costa tirrenica, ma anche per proiettarsi sugli scenari del turismo naturalistico nazionale. Quindi è un attrattore ulteriore che diventa complementare rispetto alle ricchezze che questo territorio già esprime. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha sottolineato l'attenzione che il parco rivolge al territorio, rilevando l'importanza dell'intervento corale di paesi che vivono in simbiosi. Stiamo compiendo, specificato, dei passi significativi per creare delle iniziative capaci di caratterizzare il territorio e produrre turismo di qualità che consente di entrare in contatto con la natura e le comunità locali. Finalmente, ha concluso, ci si siede insieme e si ragiona da territorio. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano.